Esortio con sconfitta per la Icaro Basket Officina Ranelli di Sciacca nel campionato esordienti. I piccoli atleti del coach Giovanni Monastero sono stati superati in trasferta dai parietà del Ribera per 18 a 6. Il miglior realizzatore per i seccensi è stato Baldo Stagno, mentre i migliori in campo sono stati Giorgio Mangiaracina e Federico Bongiovì. Hanno giocato ed esordito in campo Federico Bongiovì, Baldo Stagno, Ivan Giglio, Antonio Segreto, Giuseppe Augello, Davide Sabella, Giuseppe Cattano, Giorgio Mangiaracina, Antonio Tavo Formina, Gioele Sabella, Aurora Russo ed Emanuele Ciancimino. Una bella esperienza per tutti questi piccoli giocatori, posto che su 12 convocati ben 9 erano alla loro prima partita ufficiale, quindi non avevano mai giocato prima un incontro del campionato. La Icaro Basket era alla sua prima partita, mentre in generale il campionato esordiente invece è giunto alla seconda giornata. Entro il mese di aprile dovrebbe riprendere pure il campionato Under-19, mentre dovrebbero cominciare anche i tornei per le categorie Scoiattoli ed Aquilotti. E passiamo alle arti marziali. Trasferta a Roma per la Ippon Cara Talentini di Sciacca, presente al campionato nazionale di Kumite per la classe Cadetti. Ad Ostia Lido, presso il centro federale Palla Pellicone, niente da fare per gli atleti Giuseppe Gigliotta, categoria fino a 63 kg, e per Ludovica Balneare, categoria fino a 54 kg, che si sono fermati entrambi dopo i primi turni eliminatori. I due atleti giovanissimi della Ippon Cara Talentini hanno avuto una condotta di gara esemplare ma sfortunata. Ad accompagnare i ragazzi il maestro Marco Lentini, che adesso preparerà il proprio team per le prossime trasferte del calendario federale. Stessa trasferta e stessa gara anche per la Karate Judo Club di Sciacca. L'istruttore Michele Catanzaro ha accompagnato e presentato in pedana Alessio Nicosia per la categoria fino a 47 kg, Ignazio Raneli fino a 78 kg, e Mattias Albanese oltre ai 78 kg. Tutti e tre gli atleti si sono fermati dopo i primi turni eliminatori. Soddisfatto ugualmente l'istruttore Michele Catanzaro per il fatto che questi giovani atleti erano tutti alle loro prime esperienze agonistiche di carattere nazionale e che avranno sicuramente modo di rifarsi alle prossime occasioni.